Come ti sei trovata a diventare un'artista? Penso che artisti non si diventa, ma si nasca in qualche modo. Credo di aver avuto sempre dentro quella passione, quella luce e che la pittura sia il mio modo di trasmettere quello che io sento, quello che percepisco dall'ambiente, quello che sono le mie emozioni. È il mio modo di arrivare al mondo.